Mercoledì mattina, server down, non cazzo da fare ovviamente Quindi voglio darvi un po' di informazioni interessanti, soprattutto riguardo alle stigma, cosa accadrà alle stigma nella 5.1 Ovviamente sono sul sito IonPowerBook, qualunque cosa volete trovare su Ion e le patch future, venite qua E in questi giorni c'è stata molta confusione sulle stigma Infatti sono andato a vedere, a spulciare un po' tutto il sito E a quanto pare toglieranno tutte le stigma limitate, tutte, saranno inutilizzabili Quindi se avete quelle normali, bene, se no vi attaccate al cazzo Ma ovviamente l'NCSoft ha deciso di dare delle compensazioni per questo Quindi se siete un PG nuovo che sta livellando Ogni quest di queste qui vi dà una stigma normale Però le ho guardate E per quanto riguarda il Cleric, l'unica decente è Saving Grace Poi ovviamente andate a cercare le vostre E le altre fanno un po' tutte cagare Tipo questa che è la DPS Questa che è la DPS Che ovviamente, ok, mi fa un comodo Però Anche questa è la DPS Poi mi pare che ci sia ancora un'altra Saving Grace in giro Eccola E così via C'è anche con Lightning Comunque quelle da support, quelle principali Tipo Benevolence non c'è ad esempio Io quindi cosa ho fatto? Sono andato a comprarmele subito Perché? Perché questi qua Hanno deciso di darti poi Dei bundle Con delle stigma In base a quanti slot hai liberi Cioè nel senso Se hai un PG di 65 E hai tutti i slot liberi Ti danno tot bundle di stigma Però non è specificato quanti E non è specificato neanche se La stigma che esce dal bundle Sarà random Oppure puoi scegliere tu quale vuoi Quindi sicuramente io non rimango senza le stigma support Essendo cleric è importantissimo Ma anche da DPS Io non voglio rimanere ad esempio senza un Glacias Shard Capisci? Quindi io sono andato a comprarmele tutte Quelle support Ovviamente me ne mancava tipo Benevolence E Cos'è che mi mancava? Beh un'altra L'ho comprata subito Tanto adesso stavano a poco In questo momento Costano poco Adesso probabilmente magari saliranno Se la gente va a guardarsi ste cose Ehm Quindi io le ho comprate Tranne saving grace Che tanto qua ne escono due E poi comunque la visione del cleric E' praticamente una saving grace di gruppo Ne ho fatto meno fino adesso Però Non posso fare a meno di Di una ripple Anche perchè Ho intenzione Insieme alla legione Di provare a tentare di nuovo Il server first Della nuova instance Garden of knowledge Infatti ho comprato anche la casa Purtroppo Quindi Io il mio consiglio Le stigma che usate di più Andate a comprarle Oppure venite qua a guardare Quelle che vi danno Di compensazione Quelle che vi escono dal bando E' un turno all'otto Quindi io per sicurezza Prendetele perchè Non nessuno vi venderà più le stigma Cioè dovete solo dropparle O comprarle al broker Quindi Fate voi le vostre valutazioni E E poi agite In fretta anche Poi un'altra cosa interessante Che metteranno ovviamente Le stanze nuove Anche le dredgeon Questa roba da Per voi P.V.P. Hero Si sono un P.V.E. Hero E lo ammetto Però purtroppo è colpa Di Sword Art Online Mi è sempre piaciuto Come anime E quindi Mi piace il P.V.E. Poi c'è gente che Mi piace il P.V.E. Ben venga Non che io lo schifi Ma Siccome Aion E' un gioco Che devi investirci Tante risorse Ho preferito Investire più nel P.V.E. E poi più avanti Quando magari Sarà un livello Più alto Siccome ho iniziato Adesso a usare Il Cleric Quindi non ho tutti Questi china Poi più avanti Punterò su set P.V.E. Che magari Nella 5.3 Escono No magari Escono I set Abyss nuvi E magari punto su quelli Inutile adesso tentare Di uppare Dei set Che sono provvisori Secondo me Poi Ognuno pensa Quello che vuole Altra roba interessante Metteranno un'altra roba Da P2Win Lord Braslet Questo qua E' tipo la piuma La dove tuppare Con i sieri Vedete Lo mettono qua E aumenta le stat Della P.V.P. Defense E poi Anche Del P.V.P. Attack E addirittura Delle Manastone Slot Quindi vedete voi Ovviamente non è specificato bene Come funziona Per sbloccare il P.U.P. Attack E le Manastone Però poi vedremo Comunque Di certi Io non ho intenzione Di comprarla Subito Questa cosa qua Vedete qui Ci sono gli slot E' come la piuma Qui Ok Poi L'estima System Questa qua Funziona tipo L'estigma Ci sono tre slot Queste qua Si droppano Nelle instance Endgame E vanno Luppate O con una All Powerful O se no Con una Estima Concentrata In italiano Cioè praticamente O luppate così Cioè tipo le stigma Tu le uppi O usando una doppia Stigma Oppure con All Powerful E queste qua Praticamente Aumentano I creativity point Cioè il massimo Dei creativity point Che puoi ottenere Quindi Probabilmente Costeranno parecchio Quindi fare P.W.E. Sarà abbastanza Remunerativo Anche in questo caso Ok Poi Magical Production E Conversation Non ho idea Bene di come funzioni Roba da crafting Io non Non mi interesso Molto di queste cose Però Sembra interessante Perché producono Un nuovo set Endgame Che sarebbero questi qui Che è molto forte Però Non ho idea Di quanti materiali Servono Adesso andiamo A provare a vedere L'arma Beh la skin È anche abbastanza Figa Qua non c'è scritto Niente Purtroppo Però Eh Can be crafted By using magic production Sono di livello 80 Quindi roba Endgame Ovviamente C'erano le nuove Novo gear crafting Cioè Quindi È il top Di che potete trovare Per più Ovviamente Secondo me L'apollon set Che viene fuori Da garden of knowledge Che è OP Per i support Perché se andate su Questo tipo Noble Apollon set Da cleric Da Finalmente Non è questo Allora Smart 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 Qui da Healing boost Quindi è l'unico set Nuovo Che vi darà Healing boost Quindi va farmata Quest'instance Ovviamente Poi Per l'arma Invece Dovete andare Aspettate un secondo Per l'arma Invece Da cleric Ho visto che In quest'altra Instance Croban set Droppa Lo scudo Che ha Healing boost E anche l'arma Anche la maise Ha healing boost E lo scudo Mi pare Non vorrei dire Una cazzata No allora Era solo L'arma Scusate Era solo La maise Perché attualmente Ovviamente I set Che abbiamo Adesso Nella 5.0 Nessuno Da Healing boost A parte Mi pare Uno scudo Livello 69 Che però Vai a dropparlo Non l'ho ancora Visto in giro Dai World boss Comunque Può uscirti E Dai Healing boost Comunque Poi metto Il nuovo set Dell'arena Viola Però anche qua Ci vogliono Un botto di materiali Per prenderlo Ci vogliono 1193 Di queste Insignan nuove Perché io Mi pare Non le avete mai viste Queste Quindi si Sono nuove E quindi Farmate 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 Poi Altra roba Vabbè Mettono Queste skin Non so dove si dropperanno Però sono abbastanza fighe Tipo questa è quella È molto simile a quella che abbiamo Nello shop E Questa qua Che Ecco qua A me non piace tanto Sinceramente Però Altre cose Ah si Mettiamo delle Quest nuove Sono delle campagne nuove Mi pare che Tutte O quasi Vanno fatte Nell'instance nuova Questa qua Sono sicuro Che è Quella finale Devi uccidere il boss finale Del Garden of Knowledge Le altre Non lo so Beh Andate a vedere Sono campagne Quindi le farete Prima o poi Poi Mettono queste altre Quest Quelle Nostre Interessanti Erano queste qui Poi per gli altri livelli Se vi interessa Andate a vedere Poi Niente Questa Poi ovviamente Potete andare a guardarvi Ogni mini patch Che inseriranno Qua da noi Nella Gameforge Non so se Metteranno subito I mini update Quando uscirà La 5.1 Oppure Gli inseriranno Mano a mano Questo Non si può dire Ovviamente Se uno è già interessato Andarsi a guardare La 5.3 Può anche farlo Io sono andato a farlo Sono cose Molto interessanti Ad esempio Il Pandemonium Butterfeed Che è molto interessante Tipo Ogni instance Dà 200 Passa persone PvE Da fare a Pande O a Sanctum Dipende dove siete E praticamente Le forze di Reshkigal Vi invadono La capitale Dovete sconfiggerle E mi pare che Quest'instance qui Che va fatta solo una volta A settimana Vi dà il set nuovo Quello Quello mi pare PvP Adesso Da controllare un attimo Mi pare che sia questo Sì questo Da più Piattac Ok Però non so Se è questo Che viene droppato No Questo è quello là Il set abyss nuovo Con le Ceranion nuove Non c'è più un cazzo Hanno tolto tutto Perché prima c'erano Le informazioni Non so perché Le hanno tolte Ah Un'altra cosa interessante Nella 5.3 O nella 5.1 Non mi ricordo Ah questa è la list Una squadra 384 persone Vabbè Non ti dice cosa droppa Comunque mi pare che droppa Un set figo Mentre Nella 5.3 Nella 5.1 Adesso non mi ricordo Mi pare 5.3 Cambio il sistema Degli honor point Che è una cosa Che ho sempre desiderato E che Spero metteranno Veramente Io così ho letto Così ho capito Adesso non mi ricordo Qui dov'è Andate a cercare Comunque Adesso non ho tempo E praticamente Ogni mese Resettano Gli honor point Cioè non è che Gli resettano Cioè Ogni mese Dovete farmare Tot honor point E alla fine del mese Chi ha fatto più Honor point In quel mese Diventa governo E così via Così scendendo Di classifica Quindi sì Praticamente Ogni mese Vengono resettati Quindi Addio governo Perri Magari Speriamo E sì Perri Ciao Mi sono rimasto Ancora alla 4.8 Addio Rell E magari Ci troveremo Nuovi Governo E probabilmente Per la 5.3 Tornerò a fare Honor point Anch'io Perché Almeno sono più Spronato a farli Siccome se io Mi mettersi a farli Adesso Ciao E anche perché Sarebbe inutile Siccome Li resetteranno Ben presto Quindi Se siete Armi 1 Armi 2 Addirittura Rank 1 Come sono io Io vi direi Evitate di fare Honor point Adesso Tanto è inutile Ma piuttosto Farmate Per fare China Farmate Per aumentare I vostri set Migliorare I vostri set PUE PUP E lasciate perdere A farmare Honor point Come se non ci fossero Domani Che tanto Insomma Anche perché Serve soltanto a dire Ah io sono General Io sono Governo E poi non sono capace Neanche di killare Un mob Del cazzo Capito Quindi E' un po' inutile Poi Skin skin system Questo è interessante Mettono tipo E' figo Mettono delle Mettono delle Modifiche Ad alcune Skill E' molto Interessante Che figo Per cleric E' una figata Poi andatevele A vedere Ok Dai vabbè Comunque Diciamo che ho Parato fin troppo Ah ecco Da cleric Ho parato fin troppo Ovviamente L'ho fatto in italiano Questo video Perché Preferisco Aiutare voi Tanto Per gli inglesi Ci pensa Siu Quindi Non ci sono problemi Va bene Spero che Non mi flammerete Troppo E Ciao ciao Ci vediamo sul server Grazie a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti